C'è anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, tra gli indagati, 23 persone fisiche e 7 società, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura di Trani su delle presunte irregolarità nell'ambito dei lavori per la realizzazione del porto cittadino ed altri appalti che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero stati pilotati in cambio di soldi e regali. L'indagine vede coinvolti assieme al sindaco, amministratori pubblici, funzionari e professionisti. A Minervini vengono contestate in particolare tre ipotesi di turbativa, mentre di corruzione risponderebbero, tra gli altri, l'assessore ai lavori pubblici Mariano Caputo, il funzionario comunale Orazio Lisena e l'ingegnere Paolo Conforti. Nell'ambito dell'attività investigativa, i militari della Guardia di Finanza del gruppo di Barletta hanno eseguito numerose perquisizioni, in comune, nelle sedi delle società coinvolte, negli studi professionali e nelle abitazioni di alcuni indagati. In base a quanto emerge dalle carte dell'inchiesta, l'accusa, nei confronti del sindaco, riguarda in particolare il raffidamento diretto dei lavori per la riqualificazione di piazza Aldomoro, quelli all'interno dell'ex cementeria, mentre una terza ipotesi di reato a carico di Minervini e altri dieci persone riguarda l'incarico di monitoraggio ambientale dell'appalto per il nuovo porto di Molfetta. Sono sereno e ho completa fiducia nell'operato della magistratura e il commento del primo cittadino. Da subito mi metto a disposizione degli inquirenti per fornire massima collaborazione confidando di chiarire la mia posizione e quella del comune.